Il Campobasso conferma il momento di Grazia, centrando il quarto successo nelle ultime cinque uscite. Decidono due, tra i meno utilizzati in generale, il difensore di Pasquale ed il centrocampista Lucchese. Si gioca contro la Miternina, di fronte a circa 750 spettatori, in tribuna presente l'ex presidente della Salernitana, Agnello Aliberti. La gara l'ha detta il Campobasso come da copione. Al diciannovesimo Grazioso alza sopra la traversa con il sinistro, mentre due minuti più tardi non riesce un agevole controllo a Gabrielloni a due passi dal portiere abruzzese. La Miternina fa quel che può, secondo i propri valori tecnici, ma al venticinquesimo fa tremare i locali con un pallone messo in mezzo da Schiphol, deviato sotto misura ma senza troppa convinzione da D'Alessandris, salva tutto Grillo. Al trentatresimo sinistro, caricato da Rinaldi, la palla esce al lato di qualche metro. Il tempo si chiude con un angolo dello stesso Rinaldi ma sventato sulla linea da Marco Tullio. Con le immagini siamo nella ripresa, i lupi ci provano al quinto, ma Tascini manca completamente la deviazione, defilato sotto rete, i rosso-blu abbattono il muro aquilano al nono. Quando Rinaldi calcia, Pantarotto si dimentica della sfera, si crea una bagarre. Prima dell'intervento decisivo sotto rete del difensore di Pasquale, giunto al suo secondo gol stagionale. La gara si mette in discesa per i locali, che fanno debuttare un minuto dopo il gol il nuovo acquisto, l'anzi lotta che entra al posto di Rinaldi. Il momento dei cambi, Angelone fa entrare Terriaca in luogo di Schiphol. Dal quattordicesimo termina la partita di Tascini, inizia quella di Alessandro. Al quarto d'ora scossa Amiternina con Torbidone che va in diagonale, la palla esce ma che spavento per il rosso-blu, raddoppio sprecato per il campo basso. Al diciassettesimo quando Todino imbecca la perfezione, il veloce Alessandro che si porta in aria, dribbla l'avversario prima di incocciare, proprio contro il muro abruzzese. Al ventesimo girata in aria da parte di Terriaca che ci abbatta il pallone dopo il servizio di D'Alessandris, destinato ad uscire un minuto più tardi per Giordano. Il campo basso arretra per proteggere il vantaggio, mentre la buona volontà degli abruzzesi non sortisce. Chissà quali effetti, anche se la punizione distante di Severini, datata trentunesimo, non esce di troppo a lato. Minuti finali riservati a Lucchese, al posto di Bontà, i rosso-blu chiudono con cinque under sul terreno di gioco. La miternina non molla, ma al quarantunesimo, dopo il contatto in aria tra Giordano e Di Pasquale, scatta il giallo per simulazione per la punta ospite. Due minuti più tardi Todino mette in mezzo, ma manca l'impatto con la sfera a Gabrielloni che si fa pure male. Al novantesimo si chiudono i giochi con un contropiede locale condotto con ben quattro Campobassani verso la porta ospite. Suona le danze Lucchese che decide di non passare la sfera e fa bene perché sarà lui poi a bucare per la seconda volta a Pantarotto. Finisce con un successo legittimo e con l'abbraccio tra tifo e squadra. Domenica Campobasso nella tana della San Benedettese con tutto da guadagnare e nulla da perdere. Grazie.